Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Quella che sto indossando oggi è la maglia da trasferta della Juventus della versione Player dell'anno 2021-2022. La versione Player cosa si intende? È quella indossata dai calciatori, esattamente la coppia identica a quella dei calciatori. La maglia è tutta nera e combina degli accenti cromatici lineari nel tessuto, secondo me bellissimi, che nell'idea dello stilista vogliono rappresentare le luci spavillanti di club e festival a Torino. Molto belle, secondo me, sono anche le strisce iridescenti arancioni e rosa presenti sulle spalle. Nella mia personale classifica questa maglia prende un voto da 9 a 10, poi magari nel commento mi inviterete voi cosa ne pensate. Ora, prima di lasciarvi alla visione, vi ricordo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Se avete dubbi o volete lasciare una vostra impressione, scrivete un commento al video, sarò felicissimo di rispondervi. Buona visione, ciao! Nelle versioni player, lo stemma della Juventus, il logo Adidas e lo sponsor sono termos saldati. In controllo ci si può abbristare la trama della maglia e le lindie multicolpore. La versione player utilizza la tecnologia Adidas e Google Play-D. sulle spalle troviamo le tre strisce Adidas iridescenti. Il retro della maglia è completamente nero. Cosa ne pensate della maglia? Vi è piaciuta? Con questo è tutto, vi lascio in attesa di rivedere il prossimo video. Alla prossima, ciao!